Il secondo viro inizio di questo pomeriggio sarà Lukiya Nenko Tikon, nazionalità russa, cittadinanza russa, anni 26. Eseguirà l'ordine di Lutlidimar Beethoven, suonata in do minore, opera 30, numero 2. Di Niccolò Paganini, capriccio numero 17, dall'Opera 1. Di Fernando Sulpizi, quattro capriciosi e piacevoli ragionamenti per violino e pianoforte. Di Ejane Zai, capriccio sullo studio in forma di balzer, opera 52, di Kamai Sansan. Al pianoforte, Ilghini Sineschi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.